La fame di vittoria è stata quella decisiva nonostante qualche difficoltà dietro, qualche ingenuità. Arriva così una vittoria importante. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? Questa squadra ha dei giocatori di grande qualità, con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.